Ah, Parmareggio, beh! La mia marca preferita! Su, sedetevi! Oggi abbiamo con noi uno specialista di merende! Ragazzi, come si fa una merenda gustosa e nutriente, ma anche completa e equilibrata? Unendo un frullato di frutta ai grassini e al parmigiano! Semplice e naturale! È la bici della merenda Parmareggio! Bravi! Vi siete meritati un bel premio! Che lavoro la bici della merenda! La puoi trovare a solo un euro nel banco delle merendine refrigerate! Grazie a tutti!